Con il completamento della posa delle rotaie delle gru del Termita e in seguito alla presentazione delle nuove gru RMG, Luca Copper ha portato con successo a termine la prima parte del suo investimento sostanziale nelle terminal container. Entro il 2020 la maggior parte degli investimenti programmati, vale a dire 235 milioni di euro, saranno investiti nello stesso terminale. Alla manifestazione di oggi abbiamo mostrato ai nostri partner commerciali il funzionamento in loco delle nuove gru per essere seguiti tra l'altro nei prossimi mesi che sarà pienamente operativo nelle prossime settimane. La tecnologia introdotta è nuovissima per Capodistria, le nuove gru contribuiranno ad aumentare notevolmente la produttività del terminal dove le operazioni procederanno molto più veloci rispetto alle macchine precedenti. Inoltre le nuove gru consentiranno il carico o lo scarico dei container su 5 convogli contemporaneamente. Fino a poco fa abbiamo avuto solo tre binari ferroviari che abbiamo precedentemente esteso e successivamente abbiamo costruito altre due tracce, ognuna lunga 700 metri. Luca Copper mantiene la posizione di leader nella regione adriatica nel segmento dei trasporti su rotaia. L'anno scorso sono stati ben 22.879 i treni partiti dal porto con il 7.6% in più rispetto all'anno precedente. Solo al terminal container registriamo in media 24 arrivi e partenze di treni completi al giorno. E questi treni collegano Capodistria con tutti i centri industriali dell'Europa centrale, ha sottolineato Drago Birmatic, presidente del consiglio di amministrazione di Luca Copper.